Le persone che mi conoscono sanno che ho una grande passione per il Giappone, dove sono stato due volte nel 2018, due viaggi fantastici che ricorderò a vita, ho cercato di organizzare il mio viaggio al minimo dettaglio, fra cui avere la possibilità di andare a casa di una famiglia giapponese e poter cucinare con loro tramite un'applicazione che si chiama Nagomi Visit, basta solo registrarsi, inviare un'email di partecipazione, pagare e poi nel giorno stabilito, l'orario stabilito avrei la possibilità di cucinare e passare una serata insieme ad una famiglia giapponese. Nonostante i diversi tentativi non sono mai riuscito a trovare una famiglia libera e disponibile per accogliermi durante la serata, perché sicuramente questo dipende anche tanto dagli impegni delle varie famiglie. Allora me ne sono fatto una ragione, sono partito senza questa prenotazione, ho continuato il mio viaggio regolarmente finché non sono andato a Kanazawa, nel nord-ovest del Giappone, una zona molto molto bella, classica, che non fu mai bombardata durante la seconda guerra mondiale, quindi si possono trovare monumenti fantastici e dopo una giornata di camminati attorno alla città decido di andare in uno dei ristoranti dove cucinano una fantastica cotoletta giapponese che si chiama Tonkatsu, non è un'offesa, è un termine giapponese che proprio per chiamare la cotoletta, c'era questo ristorante che avevo trovato su TripAdvisor che diceva che era veramente molto buono, si chiama Tonkatsu no Tomatsu, cioè la cotoletta del signor Tonatsu, che erano i proprietari di questa fantastica trattoria, un ristorante troppo perché era veramente una stanza piccolissima con il bancone, con la cucina esposta e poi c'erano le scale che erano collegate direttamente con la loro abitazione. Cosa succede? Vedo che il ristorante è aperto dall'applicazione Google Maps, decido di dirigermi lì, apro la porta e trovo i due coniugi lì a cenare insieme e da soli. Loro mi avvertono che il ristorante è chiuso, infatti chiedo a loro scusate ma questo ristorante dice che è aperto, non so, magari ho sbagliato posto, la moglie si rende conto che c'è stato un disturbizio, insomma non avevano comunicato su Google Maps di essere chiusi perché era un giorno di festa, allora che cosa decidono di fare? Decidono di farmi entrare allo stesso e di cucinarmi la cena, dandomi anche la possibilità di entrare nella loro cucina e imparare qualche piccolo segreto sulla preparazione del Tonkatsu. Quindi senza nessuna applicazione, senza aver speso i 35 euro su una Gomi Visit ho avuto la possibilità di trovare in prima persona un'esperienza dentro una casa, dentro una famiglia. È stato veramente bello poter stare con loro, affrontare anche il tema delle difficoltà di comunicazione fra occidentali e giapponesi, è sicuramente un'esperienza che ricorderò per tutta la vita, anche perché alla fine della serata hanno deciso di regalarmi un Dorayaki, che è una specie di, chiamiamola crepe, con dentro marmellata di fagioli rossi e io ho regalato a loro una confezione piccolina di pasticche di liquirizia calabrese, che hanno apprezzato tantissimo. Questo racconto lo porto sempre nel mio cuore perché è stato inaspettato. La cosa particolare dei giapponesi è proprio questa, sono sempre a disposizione per aiutarti in qualsiasi situazione, non ti diranno mai di no.